Approvare la manovra nel più breve tempo possibile con un doppio passaggio parlamentare, giovedì al Senato e venerdì alla Camera, che permetta di licenziare la legge di bilancio entro domenica. E questo è l'obiettivo che il Governo e la maggioranza si sono prefissi di centrare con la collaborazione anche dell'opposizione che Tremonti ha incontrato nel pomeriggio a Palazzo Madama, a fronte degli attacchi speculativi che hanno investito il nostro Paese nelle ultime due sedute di borsa e che invece oggi hanno concesso una pausa dopo una mattinata di forte volatilità. La Lega Nord, in una fase tanto concitata per le sorti economiche della nazione, si è detta favorevole a sostenere l'approvazione della manovra al Senato, giovedì prossimo, per contrastare le speculazioni finanziarie. Per questo, ha dichiarato il capogruppo della Lega Palazzo Madama Federico Bricolo, Il Carroccio presenterà poche mirate proposte allo scopo di migliorare il testo senza incidere sui saldi. Tra queste, la modifica del patto di stabilità a favore dei sindaci virtuosi e la tutela dei pensionati, colpendo semmai le pensioni d'oro. Mani libere invece in giunta per le autorizzazioni a procedere nel caso milanese, coinvolto nell'inchiesta P4, e in Commissione Ambiente alla Camera sui rifiuti napoletani. L'onorevole leghista Luca Paolini, infatti, che avrebbe dovuto presiedere la giunta per le autorizzazioni contro milanese, si è smarcato rinunciando all'incarico in linea con quanto deciso dal partito, che, ha detto il capogruppo del Carroccio alla Camera, Marco Reguzzoni, voterà qualunque provvedimento volto a favorire la continuazione delle indagini. Il vincolo di maggioranza, infatti, vale solo sul programma di governo. Uguale fermezza anche in Commissione Ambiente alla Camera. La Lega ha presentato un emendamento in cui chiede che i rifiuti campani siano trasferiti solo nelle regioni limitrofe e che al sindaco di Napoli siano conferiti gli stessi poteri che erano stati attribuiti al sottosegretario all'emergenza, Guido Bertolaso.